In vacanza con i soldi accumulati dallo spaccio di droga. Lui arrestato direttamente sul luogo della villeggiatura, lei non appena scesa dall'aereo. E' finita così la fiorente attività di spaccio di una coppia di pusher che operava su Fano e che ora è in manette per spaccio di cocaina e marijuana, per indebito utilizzo di pagamento diverso dai contanti, per estorsione aggravata eppure per calugna. Il tutto utilizzando un bed and breakfast fanese come deposito di stupefacenti. Si tratta di una vicenda che parte da indagini scattate nel settembre 2020 quando i carabinieri hanno controllato un ragazzo nell'abitato della Sassonia di Fano trovandolo in possesso di circa 10 grammi di cocaina. Il giovane che nell'occasione veniva arrestato era stato notato avvicinarsi in bici ad una piccola utilitaria successivamente risultata in uso alla coppia prima di essere trovato con lo stupefacente occultato dallo zaino. Un episodio dal quale è emerso che la coppia vendeva circa 300 grammi di cocaina al mese con approvvigionamenti a Riccione in favore di acquirenti di Fano, Pesaro e Fossombrone. Proprio nell'occasione di uno dei viaggi a Riccione, l'uomo di rientro su Fano è stato sottoposto a controllo e arrestato perché trovato in possesso di un notevole quantitativo di cocaina. Dopo l'interrogatorio all'uomo è stato anche contestato il reato di calugna avendo cercato di indirezzare su altre persone le proprie responsabilità. Non solo calugne ma pure episodi di estorsione con debiti di droga regolati a suon di percosse e minacce. L'uomo è stato rintracciato e arrestato il 29 luglio a Desenzano del Garda mentre era in vacanza. Della donna invece si erano perse ogni tracce fino a mercoledì quando è stata pizzicata all'aeroporto di Bologna di rientro dalla Spagna e condannata ai domiciliari.